Buongiorno amici, ci troviamo a Villa Talamazzi, a Villa Talamazzi qui c'è ancora una piccola stalletta dove c'è dentro una mucca e qualche vitellino. Questi sono riparti storici ancora di un tempo, oramai le stalle qui nel territorio di San Martino del Lago sono tutte chiuse. Quindi amici, buona visione di questa piccola realtà. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!